buongiorno oggi siamo all'interno di questa bellissima palestra mma atletica box associazione sportiva dell'ittantistica con il suo proprietario garcia amadori e con il consigliere della zona 5 rosa divaia che da sempre lavora in maniera molto attenta precise puntuale sul territorio e è venuta a proprio nel nel lavoro di ascolto dei cittadini e in contatto e a conoscenza con questa realtà e con le problematiche che sta vivendo il mondo delle palestre il mondo del fitness ma qua siamo in una realtà diversa e c'è una palestra in cui si fa sport di contatto si fa appunto mma si fa box si fa giugizzo si fanno sport di contatto e quindi hanno ancora maggiore difficoltà rosa come sei entrata in contatto con loro allora io sono entrata in contatto con loro perché mi piace ascoltare le persone del municipio e quindi prendendo a cuore appunto questa realtà che comunque ha subito delle vere proprie perdite economiche infatti lascerò la parola garcia amadori che appunto ci illustrira illustrera la situazione buongiorno a tutti grazie signor galera grazia rosa che ho avuto questa possibilità perché veramente siamo una situazione drammatica e questo lo si sa già da un bel pezzo io sono ormai 13 mesi che sono chiuso e che continuo a pagare gli affitti e le utenze quindi il problema è proprio questo cioè che la nostra richiesta è che ci venga data una mano per quanto riguarda almeno le utenze ecco ma perché la nostra realtà oltre che sono realtà di fitness eccetera eccetera ma il combattimento è anche un discorso sul sociale quindi da me vengono tantissimi ragazzi che hanno problemi che hanno bisogno di aiuto e che sono in situazioni difficili e noi diamo il loro nostro contributo appunto ad aiutarli a venire fuori dai loro dai loro problemi ecco io ho ricevuto telefonate da mamme disperate proprio per questi motivi insomma se non ci date una mano le asd muoiono e le asd sono i centri dello sport cioè da qui escono i campioni che poi vanno a fare le olimpiadi eccetera eccetera incontri internazionali eccetera eccetera quindi queste realtà sono importantissime galera è venuto da noi proprio grazie a rosa per parlare per avere un confronto per quanto riguarda questa situazione grazie per capire perché poi queste storie vanno raccontate vanno ascoltate per essere comprese veramente nel profondo cristian è un campione maestro maestro garcia garcia stavo pensando è un maestro quindi voglio dire siccome vedevole là le coppe quelli sono dei vostri abbiamo avuto i nostri i nostri momenti è un maestro che ha allevato dei campioni un ragazzo giovane un ragazzo mi diceva sono io qui perché anche l'ultimo decreto sostegni prevede per le associazioni sportive dilettantistiche qualche aiuto ma in relazione ai dipendenti o a chi lavora qua lui dice sono io sono io che faccio voglio dire muovere questa questa attività ho un problema gigante che quello dell'affitto che sono quello delle utenze che sono quello delle spese finora in un anno sono sempre riuscito a pagare regolarmente ho avuto un ristoro minimo di 6.000 si abbiamo avuto giusto i soldi di tre mesi di affitto ecco 6.000 euro in un anno si poca roba e l'affittuario quello che ci affitta al locale ovviamente non non è dalla nostra parte nel senso che comunque lui guarda il suo e basta questo è una cosa che ci fa molto male perché invece un po di umanità sarebbe anche insomma richiesta lui c'è venuto incontro da legge quello che si poteva fare a livello di legge ma ovviamente lui guarda il suo e basta questa noi noi ci dispiace molto insomma come cosa questa indifferenza totale è brutta anche perché noi siamo precisi e regolari nei nei pagamenti quindi anche questa una voce importante una realtà sportiva una realtà sociale che aiuta tanti ragazzi bullizzati fragili introversi a uscire a essere più decisi nelle loro relazioni e che vive una situazione difficile che rischia di essere spazzata via se non avrà un aiuto un sostegno c'è un impegno mio a fare in modo che nella reconversione del decreto sostegni si possa prevedere una forma sugli affitti o un credito d'imposta per i proprietari degli immobili o un'altra forma un contributo perché il tema delle spese vive è quello che sta mettendo in ginocchio moltissime realtà vale per le sessioni sportive interettantistiche vale per i teatri vale per i ristoranti per tante altre realtà buona giornata a tutti